purtroppo il vecchio pannello solare da 130 watt già abbandonato quindi abbiamo fatto la scelta di investire su due nuovi pannelli della linea ecovurti sono due pannelli da 130 watt con un nuovo regolatore di carica a 30 ampere prima ne montavamo uno da 10 eccolo qua che da quello che descrive nella parte dietro è abbastanza limite per il pannello da 130 watt detto questo rifacciamo completamente l'impianto cosa abbiamo a disposizione abbiamo preso dall'eco curti che poi vi lascerò il link in descrizione e anche il codice sconto il kit che comprende due pannelli regolatore da 30 ampere abbiamo già due cavi positivo e negativo da 5 metri entrambi abbiamo i morsetti che collegano i due pannelli che li fanno lavorare in linea morsettini per attaccare i fili il nostro sica e adesso procediamo con l'installazione dei nuovi pannelli prima di fare tante manovre un incollaggio visto che ho la possibilità di farlo utilizzo il test per vedere il funzionamento del pannello anche se essendo nuovo si presume che funzioni e eccolo qua fantastico ciao ciao I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be led I'll fill the seeds as I spread With every word that I've said How's it supposed to be? How's it supposed to be? How's it supposed to be? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti